Il Paradiso, scoppia la polemica sul finale stagione, stanno rovinando la sop opera. Il finale del Paradiso delle Signore 7 scatena accese polemiche tra i fan della sop opera del primo pomeriggio di Rai 1. Manca ormai sempre meno alle puntate conclusive di questa settima stagione della sop italiana sui social non mancano le critiche per l'evolversi di alcune trame. In particolar modo, l'addio tra Marco e Stefania ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e in tanti sostengono che gli sceneggiatori avrebbero sostanzialmente rovinato la sop con queste scelte. Nel dettaglio, l'appuntamento con il Paradiso delle Signore 7 continua a essere commentato anche sui social. Sono tanti gli spettatori e fan della sop opera che tutti i giorni si divertono a dire la propria su quanto accade all'interno del grande magazzino e alcuni risvolti non li hanno resi per niente entusiasti e felici. Al centro delle trame che terranno banco nel gran finale di questa settima stagione ci sarà spazio per l'addio tra Marco e Stefania. I due hanno scelto di intraprendere due strade differenti e quindi di truncare inaspettatamente la loro relazione. Un addio che ha lasciato tutti senza parole, dato che la storia tra Marco e Stefania sembrava essere destinata di andare avanti e a proseguire nel migliore dei modi. I due, infatti, dopo aver annunciato il fidanzamento ufficiale, annunciarono la partenza per gli Stati Uniti d'America. Pronti ad intraprendere insieme un nuovo percorso di vita. Ma alla fine le cose sono andate diversamente e la relazione è naufragata, ponendo fine anche al sogno dei fan che speravano di poter assistere al matrimonio tra i due giovani volti della sop opera pomeridiana di Rai 1. Immediate le reazioni dei fan che, sui social, si sono subito scagliate contro la scelta degli sceneggiatori di truncare la relazione tra Marco e Stefania. Stanno rovinando la sop opera con queste scelte davvero insensate, ha sentenziato un utente sui social commentando le trame delle ultime puntate. Ma per quale motivo hanno scelto di rovinare una delle coppie più belle della sop? Davvero una decisione senza senso. Ha scritto un altro fan del Paradiso delle Signore. Dopo Vittorio e Marta, hanno scelto di rovinare anche la storia tra Marco e Stefania. Non ho parole per le scelte che stanno facendo in questo finale di stagione, ha sbottato ancora a qualcun altro sui social. Non è nebun, ma gandesc tu ce crezi. Orice crezi, tine pentru tine. Fii egoista, liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru bivoiul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, swap-o. Grasul nimeni altul, delvedezi sau carbo. Tre' să vă mănânci verzi cu verzi card intens. Tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul.